Grazie. Il giorno 18 maggio 2013 a Firenze, presso la Fortezza d'Abasso, si è tenuta la conferenza finale del progetto europeo Mummia. Le organizzazioni partners di tale progetto sono LBC NVK Belgio, FSC Commissione Obreras, Spagna, CHTJ Ugete Spagna, FGA CFDT Francia, Copis Turchia, CGL Lombardia Italia, Ires CGL Emilia Romagna Italia. Le organizzazioni sostenitrici sono invece ETUC, EFAT, UNEUROPA, EMF, FECOT, Commissione Obreras a Spagna, CONFIA, Commissione Obreras a Spagna, CTUC Croazia, FIOM CGL Italia, FILCAM CGL Piemonte Italia. Il progetto è stato avviato con un meeting a cui hanno partecipato oltre 100 persone, si sono susseguiti 5 workshop in ogni nazione dei partner del progetto e sono emersi differenti elementi che si sono uniti in un sottile filo rosso, dalle imprese trasnazionali alla multisettorialità per finire nelle alleanze globali. Gli strumenti di indagine utilizzati sono multipli e differenziati, un questionario redatto in quattro lingue che è stato compilato da una cinquantina di persone, una raccolta di casi studio riferiti a singole imprese per un totale di nove rapporti erogati in maniera non strutturata, un'intervista strutturata per essere somministrata a testimoni privilegiati nel numero di otto sindacalisti nazionali o di federazioni europee internazionali o esperti di tematiche sindacali. 5 workshop. Il progetto ha visto un imponente lavoro di coordinamento e di sinergia, proprio la ricerca di quegli elementi utili per superare le differenze e fondersi in quella che i testi di relazioni industriali definiscono una cultura sindacale europea. Durante la giornata del 17 maggio, densa di eventi e tavole rotonde, si è potuto fare sintesi rispetto ai lavori condotti, se non l'ha dato odierna, e alle problematiche sostanziali emerse nell'ambito dei workshop. In una prima fase della giornata sono stati presentati i risultati della ricerca ed illustrato le esperienze dei diversi partner e partecipanti con l'intervento di, per brevità nominerò solo i nomi, Emilio Ferrero, Elen de Bord, Serafin Delgado, Deniz Akdogan, Kun Dris, Pal Kovacs. E la partecipazione dei membri dei vari commentati aziendali europei, a seguire due tavole rotonde su due tematiche principali, una dedicata agli strumenti per identificare in Europa quei dati utili relativi alle multinazionali che si possono reperire da diverse fonti. I relatori sono stati Romualde Giagodinski e TUI, IWC Database Manager, e Peter Kerkhoff, ricercatore di Eurofund. Le sessioni della giornata del 18 maggio sono state ricche di qualificati partecipanti e relatori alle due tavole rotonde. La prima è stata dedicata al tema principe del progetto Mummia, ovvero come promuovere i CAE nelle realtà delle imprese multinazionali e multisettoriali, con i relatori Fausto Durante, Marina Monaco, Kerstin Owald, Elen de Bord, Kun Dris, Francisco Dominez Villalon, Giuliana Mesina, coordinati da Fabio Gelfi, responsabile politica e globale CGL Lombardia. Il successivo panel invece si è focalizzato sul tema delle alleanze sindacali e degli accordi internazionali con le imprese multinazionali, con i relatori Luca Visentini, Franco Martini, James Ricci, Deniz Akdogan, Fernando Medina, Pav Akhtar. Il coordinamento dei lavori è stato condotto dal dottor Volker Telloian, ricercatore Ires CGL Miglia Romagna. In conclusione della seconda giornata di conferenza è stata somministrata un'intervista al direttore del Dipartimento di Formazione di Etui, Ulisses Garrido. L'intervista è stata incentrata sulla formazione sindacale, quale strumento necessario per ridurre la distanza tra culture e competenze attuali e quelle invece necessarie al fine di raggiungere gli obiettivi strategici di medio e lungo termine nell'ambito dell'azione sindacale europea ed internazionale. L'intervista è stata condotta ed elaborata da Ilaria Costantini, segretaria generale della Filcancigliele di Gorizia, in piena coerenza con quelli che sono stati i tre pilastri del progetto, ovvero comunione di una metodologia di lavoro, disponibilità di maggiori informazioni sulle imprese multinazionali e possibilità di poterle condividere, unitamente la disponibilità di uguale informazioni anche sulle organizzazioni sindacali per poter costruire delle alleanze, eliminazione degli elementi di ostacolo relative ai gap di conoscenza e delle barriere linguistiche, evidenziando in particolar modo le difficoltà derivanti dalla mancanza di coordinamento delle diverse istanze e livelli nazionali ed internazionali. Nello specifico, l'attività sindacale internazionale è uno strumento fondamentale ed imprescindibile dell'esercizio più ampio dell'attività di rappresentanza a livello locale e nazionale. Alla luce delle indicazioni emerse nell'ambito delle sessioni di dibattito si ritiene utile con vocale per la successiva riunione del comitato di pilotaggio il capodipartimento del settore a relazioni industriali delle TUI in maniera tale da verificare con organicità e maggiori elementi di conoscenza i seguenti punti, interfacciare le diverse fonti dati repelibili in tema di cali, anze globali e in generale del mondo sindacale, promuovere la crescita di una cultura europea nel sindacalismo anche attraverso l'attività formativa di TUI, in particolare quella dedicata a membri di delegazione speciale di negoziazioni per CAE e società europea, membri effettivi e supplenti di CAE già installati, corsi di project management per l'acquisizione di una metodologia di lavoro comune, corsi di pianificazione e organizzazione di una metodologia di lavoro comune tra i componenti dei CAE e delle società europee, verificare la prosecuzione delle indagini di ricerca sugli elementi più critici emersi durante il progetto attraverso una nuova progettualità. In particolar modo occorrerà lavorare sulla comunicazione quale processo sociale che consente di superare le asimmetrie di informazione, qual elemento parificatore e costruttore di un'identità sociale, sia essa riferita al Comitato aziendale europeo o al singolo individuo partecipante ai processi di negoziazione delle società europee o partecipante a un processo di alleanza globale verso un gruppo multinazionale. Un processo comunicativo che porta a compensazione le differenze considerate come elemento di aggregazione ed unione e non come un elemento di divisione per una rinnovata dimensione di sovranità sindacale europea. Letto approvato sottoscritto in Firenze lì 18 maggio 2013. Grazie. 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 Grazie.